Gli stranieri in Toscana sono stati al centro del seminario a cui ha partecipato l'assessore regionale all'immigrazione Vittorio Bugli nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze, nel corso del quale è stato anche presentato l'osservatorio regionale sull'immigrazione da poco nato. Gli stranieri sono il 12% della popolazione e 2 su 10 sono in Toscana da prima del 2000, mentre 15 su 100 sono nati in Italia. Sul fronte dell'accoglienza nel 2019 i CAS ospitavano 6.386 persone e gli SPRAR 1.278. Gli irregolari sono calcolati in circa 31.000. Tra le misure più recenti adottate dalla Toscana, l'assessore ha ricordato la legge sui diritti essenziali delle persone. In Toscana dobbiamo sostenere i diritti a queste persone, a tutte le persone, però facciamo anche un patto perché non si degradi verso situazioni non regolari e questo credo che si dovrebbe fare anche a livello nazionale. I più numerosi tra gli stranieri in Toscana, secondo i numeri resi noti da IRPET, Caritas, Fondazione Leone Moressa, Centro Studi IDOS e Neodemos, sono rumeni, cinesi e albanesi. Dal 2000 nella regione la popolazione è aumentata solo in forza degli arrivi dall'estero, ma ora anche la crescita degli stranieri ha subito una brusca frenata. Grazie.